Sono felice perché mi amo e mi piace parlarvi dell'acqua ghiacciata, perché un grande psicanalista, ispirandosi a uno dei maestri, dice che molte volte noi non siamo felici, non siamo contenti perché c'è un falso sé, c'è dentro di noi qualcosa che ci costringe. A tenere ferme certe convinzioni, certe credenze, certo bisogno dell'appoggio degli altri, finché tutte queste convinzioni, queste opinioni diventano veramente un'acqua ghiacciata. E molte volte in psicoterapia si sente l'inizio dell'incontro con parole che dicono io sono bloccato in questa situazione, c'è questo qualcosa che non va bene, ma l'acqua si ghiaccia ancora di più quanto più noi cerchiamo di trovare nel passato ciò che è accaduto, i genitori più o meno adatti a noi, secondo noi. E si dimentica che anche quando l'acqua è ghiacciata, sotto c'è sempre l'acqua che scorre. Amarsi vuol dire scendere a contatto con la fluidità, con lo scorrere delle cose, non vederti come un'acqua ghiacciata ma come una sorgente in cui l'acqua sgorga e va poi verso il fiume, il mare. Quando stai male è perché l'acqua è ghiacciata, ma contemporaneamente ci sono fiumi dentro di te che stanno scorrendo. Questo è ciò che deve farci riflettere perché in quei fiumi sotterranei che scorrono, lì vive la felicità. Molte volte, molte volte arrivano dei dolori, dei disagi, delle sofferenze che combattiamo come se fossero dei nemici terribili che vogliono invadere il nostro spazio. No, sono figure, situazioni mandate da quell'enigma che vive dentro di noi. Ti sei convinto di essere soltanto l'acqua che si è ghiacciata. Dimentichi l'enigma che in un fiume sotterraneo scorre dentro di te. È quel fiume, proprio quel fiume che scioglie il ghiaccio. Non soffermarti su cosa non va bene nella tua vita perché si ghiaccia. Fai danzare le immagini, le fantasie, i desideri. E quando arriva qualche contraddizione, una crisi, è semplicemente il mondo del sottosuolo, il mondo sotterraneo, le acque che scorrono, che stanno scendendo in campo per rendere fluido il tuo mare. Ecco perché dobbiamo amare, più che mai, quando qualcosa arriva sorprendendoci. Per amarsi bisogna cercare non cosa non va bene, ma chiudere gli occhi e immaginare il nuovo che arriva, nuove fantasie, nuovi percorsi della mente. Chiudete gli occhi, immaginate un prato fiorito e lasciate lì pure i vostri demoni. Io sono quello che soffre per situazioni che non vanno bene, ma sono anche quello che puoi immaginare, il prato fiorito. Di questo parliamo in questo numero di rizza. amare tutto ciò che non ti piace di te, perché è la prima stanza, la più periferica della tua interiorità. Dentro, anche nei disagi più grandi, vive la gioia di vivere. Bisogna il fatto che il disturbo se n'è andato. Perché non è il ragionamento che produce il volersi bene, ma è il sostare dentro di sé con tutte le nostre contraddizioni. Ama, adora le tue contraddizioni, le cose che ti mettono in difficoltà, le cose che non vorresti che ci fossero e che pure sono venute a trovarti. Perché il vero pericolo è che l'acqua si ghiacci e ti faccia credere di essere solo l'acqua ghiacciata. Ecco perché stai male. Mentre invece l'acqua è fluida. Sai perché è fluida? Perché sei dentro un liquido amniotico interiore, il liquido amniotico del sé, che sta facendo la gravidanza del tuo essere. Ma rispetto alla gravidanza, qui, via via il parto avviene giorno dopo giorno. Non trattare il dolore che arriva come ciò che ti ferisce, ma come la rottura delle acque, di qualcosa che ti vuol far nascere. Una buona felicità viene dall'allontanarsi dall'idea ostinata che ti sei fatto di cosa non va bene nella tua vita. Portati sempre con te queste immagini. Mentre io vedo il malessere c'è un'acqua fluidifica che scorre, come un fluido. quando non sei più fermo nelle tue convinzioni, l'acqua ti porta alla tua spiaggia. A presto. 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 A presto.